Grazie a tutti. Al parco letterario di Atami, al liceo scientifico, quindi come liceo scientifico con la Tura, e ringrazio il dirigente per averci permesso di organizzare questa cosa, abbiamo per il maggio dei libri organizzato una serie di incontri avendo due temi principali, la legalità e l'ambiente. Abbiamo iniziato, questo è il secondo incontro, diciamo che è seguito ad un primo incontro con un libraio, Nunzio Belcaro, della UBIC, che ha parlato del piacere della lettura. E oggi abbiamo avuto l'onore di avere con noi Don Giacomo Penizza, che ha presentato il suo ultimo libro, Cattivi Maestri. È stato un incontro pieno di stimoli per i nostri alunni, per i convenuti, anche adulti, ex alunni, docenti della scuola. Il prossimo incontro sarà il 25 maggio, si tratterà del tema dell'ambiente, insomma ci sarà con noi il presidente del nuovo parco, quello di Vallicupe. Il terzo incontro per il maggio dei libri sarà con il presidente del nuovo parco, Vallicupe, nel comune di Sersale, Carmine Lupia, che concluderà questa serie di eventi. Noi siamo molto come scuola, siamo stati molto contenti di aver organizzato questi incontri e spero che questa iniziativa possa ripetersi anche nei prossimi anni. Grazie a tutti.